Fase 2 non vuol dire fine della pandemia. I rischi legati al coronavirus, pur vivendo in una città che da oltre un mese non fa registrare contagi, permangono ed è necessario attuare misure che consentano di limitarne la diffusione. Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, commenta l'ordinanza valida fino al 28 giugno prossimo che impone le mascherine dopo le ore 19 davanti a locali e luoghi pubblici del centro storico e delle zone maggiormente frequentate dove è vietato consumare bevande alcoliche e analcoliche. Lo scopo è evitare assembramenti di avventori che, specie nelle ore serali, asportano bevande dagli esercizi per poi stazionare altrove. È proibito a chiunque aggirarsi o stazionare sulle aree pubbliche o di uso pubblico interne ai centri abitati consumando bevande. Per gli esercizi di vicinato, nei quali è praticata la vendita di alimentari e bevande, è disposto il divieto di vendita di alcolici, anche imbottigliati, dalle ore 21. Nella medesima ordinanza viene disposto il permanere di parchi, giardini comunali, aree verdi attrezzate del territorio comunale, del divieto di utilizzo delle aree gioco per bambini. All'interno degli stessi spazi, inoltre, sarà obbligatorio accedere muniti di mascherina protettiva, qualora non fosse possibile mantenere una distanza minima di un metro. L'accesso ai minori di anni 14 è consentito solo se accompagnati da persona maggiorenne, è consentita l'attività ludica o sportiva, a condizione che per quest'ultima, cioè quella sportiva, venga rispettata la distanza interpersonale di due metri.